Sì, il gesto del sottosegretario Legnini è stato importante innanzitutto perché ha fatto vedere la presenza del governo anche qui nel cratere in uno dei paesi più danneggiati. Io ho chiesto a Legnini di farsi portavoce di questa istanza, cioè di parlare con Renzi, con il Presidente del Consiglio e di far battere un colpo anche da lui, visto che si è impegnato su tanti fronti può impegnarsi anche su questo. Naturalmente il Premier, come mi ha riferito Legnini, è fuori per qualche giorno, lunedì mattina ci risentiremo, ci aggiorneremo rispetto a questi punti che abbiamo messo sul tavolo. C'è l'impegno di finanziare, almeno per la parte che manca, tutti i progetti che sono depositati, c'è l'impegno di stanziare risorse importanti nella legge finanziaria. Credo che se Renzi dirà qualcosa in tal senso, io penso che non potrà esimersi poi dal portarla a casa. Ultima domanda, si è parlato di cantereabilità, cioè Villa Sant'Angelo è pronta a spendere un bel po' di fondi, però Legnini ha detto che i problemi probabilmente sorgeranno a lungo termine e si riferirà ovviamente al cratere sismico. Sì, lui ha fatto un discorso generale, io faccio da sindaco di questo comune un discorso locale. Noi abbiamo già impegnato il 105% delle risorse assegnate, entro due mesi potremmo impegnare altri 11 milioni di euro, il che significa arrivare quasi al 180-190% delle risorse ad oggi disponibili e io già tra dieci giorni potrei scrivere ad altri presidenti di consorzio invitandoli a presentare progetti e solamente, come ho già detto, i primi cinque che sono in graduatoria, nella graduatoria provvisoria, sono altri 20 milioni di euro. Quindi la ricostruzione a Villa Sant'Angelo, tempo 3-4 anni, potrebbe essere avviata quasi interamente. Se si vuole decidere di perdere questa occasione, altrimenti c'è la possibilità di dare un segno a tutta l'Italia che il comune più danneggiato, dopo l'Aquila e alcune sue frazioni, è in grado a distanza di 10 anni dal terremoto di far partire tutta la ricostruzione, credo che sia un esempio per tutta l'Italia.